Quattro ragazzi abruzzesi appassionati alla vita e per l'allegria della musica irlandese si impegnano per lasciare un'impronta tangibile presso la propria comunità di quel calore che alimenta la cultura irlandese e accende il corpo e l'anima di un popolo tanto lontano quanto simile a quello abruzzese. Un popolo forte, un popolo vigoroso esattamente come il popolo abruzzese, un popolo allegro un po' come il popolo abruzzese, un popolo che vive di tradizioni profonde che sembrano povere ma in realtà sono ricchissime storicamente e culturalmente. Da questa esigenza di appassionata volontà di scoperta nasce l'Abruzzo Irish Festival. Sono tre giorni con circa sette ore di spettacoli permanenti, abbiamo oltre 50 ore di musica non stop tra session tradizionali irlandesi da pub e musica da concerto da palco. Abbiamo spettacoli di ogni tipo da accampamento celtico druidico ad accampamento di combattimento a un angolo cartomanzia, chiromanzia per creare un po' di magia, un po' di mistero, un mercato tipico di artigianato, abbiamo un catering tipico irlandese, una vasta scelta di birre selezionate irlandesi, spettacoli fantasy di trampoleria e molti altri spettacoli tutti quanti relativi all'ambito dei performer di strada come spettacoli del fuoco. Il festival, illustrato anche dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, è promosso dall'associazione di proporzione sociale Innocent Smith. Happy St. Patrick's Day, la grande festa celtica irlandese, al porto turistico Marina di Pescara, da venerdì 17 a domenica 19 marzo. Le famiglie sono assolutamente il primo, il cuore della manifestazione, ovviamente i giovani per quanto riguarda il divertimento, però ci teniamo a dire che la manifestazione ha un contenuto fortemente culturale con un indirizzo fortemente contenutistico.